Ciao amici di All4Shooters e All4Hunters, siamo di nuovo a Hongzhu in China con la HIC Micro e con me ho Stefan che è il General Manager Overseas di HIC Micro e Mei che è il Product Manager sempre di HIC Micro per quanto riguarda i prodotti Sport Optics. Cominciamo con alcune domande. Stefan dove pensi che il mercato della caccia si troverà tra cinque anni da adesso? Questo mercato continuerà a crescere. Mei Mei, quali prodotti pensi che possano avere la maggior potenziale di sviluppo e perché? I would say it's Falcon because this is the first leading monocular in the market with 12 mK and it is with all the image quality, usability and reliability, so I would say Falcon. Mei Mei, qual è stata la più difficile impresa tecnologica che siete riusciti a risolvere in HIC Micro dal punto di vista della visione termica? Ok, I would say for the market image quality is very important but for us, from our understanding, image quality is not made by only one single component, it's more about the entire system. So for us, we have to take over all, from the lens to sensor to processor and to the display, all these systems to make the good image quality. Stefan, quale tipo di prodotto vedi che possa avere il maggiore spazio sul mercato nei prossimi cinque anni? Io come tipologia di prodotti intendo binocoli, monoculari, cannocchiali da tiro? I think the binocular, digital, day and night and so more, building laser range finder and IR elevator together, this kind of digital binocular will be the future and will have the biggest market share around all digital products. Sempre Stefan, perché un cliente o un cacciatore dovrebbe scegliere un prodotto di HIC Micro invece di un prodotto della concorrenza? Che cos'è che li rende migliori? Thank you for this question. I think several reasons that the hunters prefer to choose HIC Micro. The first thing is the product technology and us may introduce our products, a lot of new technology and core functions inside the product. And the second thing is the service. We have a very big localization, BDM team to support all of our dealers and hunters. Also the other service, for example online service and RMA service, that we can give the best support to the hunters. I think that is the main reason why hunters prefer to choose HIC Micro. Una domanda a Mei Mei. Se tu dovessi scegliere un singolo prodotto per rappresentare l'azienda HIC Micro, quale sarebbe? Che non, I would say, is Hubrock. As this is an all-in-one product with the compact and the okay weight product. All these binoculars. And I would say it also got the EVE word. And I would say this is a good product for the hunters who used to use optical devices as the appearance and all this using experience is nearly the same like the optical devices. devices. So I would say it's Hubrock. And we want to use this kind of product to lead the optical hunting to digital hunting. Ora ho qualche domanda per entrambe. Qual'è stata la vostra esperienza nella caccia? Avete sempre avuto questo interesse? Yeah, hunting is very interesting for us because we are trying to learn from each country the hunting style and the hunting habits and the different hunting scenarios. So from myself, when I travel to one country, I will ask my customers or our BDM together to bring us to try different kinds of hunting. Adesso che avete avuto qualche esperienza di caccia, vi siete appassionati? Vi piacerebbe continuare? All'ultima domanda sempre per entrambe. Qual'è stata la cosa che vi è piaciuta di più nella caccia? Un'ultima domanda per entrambe. Qual'è stata la cosa che durante la caccia vi è piaciuto di più? e come usano i prodotti. Sì. Per me, la prima cosa è che con i caccia, possiamo stare vicino alla natura e possiamo anche vedere tutto il processo, come i caccia i caccia i caccia i caccia i caccia i caccia. E possiamo vedere cosa i caccia i caccia i caccia i caccia e poi possiamo mettere queste necessità in un design di prodotto per rendere il prodotto che i caccia i caccia i caccia i caccia. Grazie per il vostro tempo, grazie per averci avuto qui e per averci ospitato. Grazie. Grazie ancora. Grazie. E continuate a seguire offorshootersoforhunters.com Qualsiasi commento, per favore, postatelo qui sotto.